Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Red Hawk. Oggi continuiamo il nostro viaggio nella lore Marvel. Per chi non lo sapesse, ormai da un paio di mesi, una volta a settimana, andiamo ad analizzare la lore nel dettaglio di alcuni personaggi della Marvel e della DC Comics che, per qualche motivo, sono un po' meno conosciuti, almeno agli occhi del grande pubblico. Oggi parliamo di un personaggio che in realtà recentemente è comparso in un film. Stiamo parlando dell'Alto Evoluzionario o High Evolutionary. Io utilizzerò il nome in italiano per semplificare il tutto. Nel caso di oggi, in realtà, questo è un personaggio che effettivamente si vede appunto in un film e il film è uscito da pochissimo tempo, ovvero Guardiani della Galassia, volume 3. Quando io sto registrando questo video, ok, quindi nel passato rispetto a voi, questo film non è ancora uscito. Sicuramente sarò andato a vederlo il giorno stesso, probabilmente avrete visto anche qualche contenuto riguardante questo film. Però vi dico anche, proprio con estrema sincerità, che questo video non è per nulla collegato all'Alto Evoluzionario che abbiamo visto nel film. Perché, appunto, non ho ancora visto l'adattamento. E questo video è dedicato principalmente alla lore dei fumetti della Marvel, ok? Poi, ovviamente, io vi invito nei commenti a sottolineare se questo personaggio è simile oppure no a effettivamente quello che abbiamo visto nel film. Comunque è un personaggio, ripeto, abbastanza sconosciuto, quindi secondo me James Gunn l'avrà un po' rivoluzionato. Prima di continuare, ragazzi, io vi ricordo che Red Hawk è un progetto molto, molto ampio e arriviamo addirittura ad avere un sito di news, quindi in descrizione trovate questo sito di news. Se vi va potete informarvi per quanto riguarda la cultura nerd, per quanto riguarda i fumetti, manga in generale, proprio attraverso questo sito. Trovate il link in descrizione. E io direi che possiamo cominciare parlando dell'Alto Evoluzionario. E partiamo dal suo vero nome, che è Herbert Edgar Whitham. È un personaggio, intanto lo chiameremo Herbert, almeno per quanto riguarda le sue origini, per semplificare il tutto. Nasce circa negli anni 20 a Manchester, in Inghilterra. È uno studente di Oxford e frequenta questa prestigiosa università negli anni 30. Sin da giovane, in realtà proprio nel momento in cui entra a Oxford, inizia a interessarsi al lavoro di un certo biologo. Questo biologo non è nient'altro che Natalia, Nathaniel Essex. Personaggio importante per la Marvel, perché in realtà è l'alter ego di Sinistro. Appassionandosi appunto alle ricerche di quest'altro biologo, si appassiona a sua volta di questo argomento, che tra l'altro sarà molto importante per l'Alto Evoluzionario, che è la manipolazione genetica. Inizia a fare degli esperimenti con la manipolazione genetica, fino a costruire una macchina che chiamerà acceleratore genetico, col quale inizialmente prova ad evolvere, tra virgolette, i topi che trova nello scantinato di sua madre. Comunque è uno studente molto brillante, di fatti farà una bella carriera, e lo ritroveremo in una conferenza di genetica proprio a Ginevra, in cui Edgar incontrerà un misterioso uomo. Scorreremo più avanti che in realtà quest'uomo è un inumano, chiamato Fyder, che in realtà è un inumano che è stato bandito dalla sua comunità. Questo inumano consegnerà a Edgar degli appunti veramente importanti per la sua carriera, perché contengono delle informazioni per modificare il genoma umano. Con questa utilissima informazione, Edgar modifica un pochettino i suoi esperimenti e sviluppa per la prima volta con successo un siero che chiama Isotopo A. Qui la sua storia inizia un pochettino a complicarsi. Per chi ha avuto a che fare un pochettino con l'argomento appunto di cui stiamo parlando in questo video, quindi della mutazione genetica, sapete che soprattutto in Occidente è aperta una grandissima questione ideologica e direi anche morale. Difatti Edgar viene proprio espulso da Oxford per questioni ideologiche, ma nonostante questo riesce per la prima volta a far evolvere un animale e fa evolvere un cucciolo di dalmata. Questo cucciolo di dalmata si chiama Dempsey. Gli dona una forma, diciamo, umanoide e anche l'intelligenza di uno scimpanzé. Comunque Dempsey, sfortunatamente, fu abbattuto poi dai bracconieri. Quindi Edgar inizia a capire che le sue creazioni non possono trovare spazio nel mondo umano, così come lo conosciamo. E quindi inizia a collaborare con uno scienziato molto famoso. Questo scienziato si chiama Jonathan Drew, che è il padre di Jessica Drew, ovvero Spider-Woman, ma per adesso la lasciamo da parte. I due comunque spostano i loro esperimenti in una piccola nazione della Transia, una nazione che si trova circa più o meno nell'Europa dell'Est, ed è una nazione inventata in realtà. Molte di queste terre che si trovano in queste nazioni sono state ereditate da Jonathan Drew attraverso sua moglie e proprio in queste terre i due trovano dell'Uranio. Quindi grazie alla scoperta dell'Uranio i due procurano molti, moltissimi finanziamenti e iniziano a comprare moltissimi altri terreni dal padrone di quelle terre. E tra l'altro il padrone locale è Gregor Russov, che è il padre di Jacob Russov, personaggio famoso nella Marvel per essere l'Icanthropus. Abbiamo tanti genitori di altri personaggi in questa storia. Comunque, i due costruiscono, proprio nella Transia, una specie di cittadella della scienza. Le cose comunque iniziano a mettersi male dalla parte di Drew, perché sua figlia si ammalerà per colpa dell'Uranio presente in questa cittadella e sua moglie verrà attaccata da un licantropo, che poi scopriamo ovviamente essere lo stesso Russov, che è vittima di una maledizione di famiglia. Edgar quindi rimane praticamente da solo, insieme ad alcuni assistenti, a continuare le sue ricerche e, tra le molte scoperte che fa in questa cittadella, inventa una nuova razza, dei mezzi uomini e mezzi animali, che lui richiama, ribattezza, nuovi uomini o new men. La storia di questo personaggio si legherà anche strettamente a un dio del caos chiamato Kton. Difatti scopriamo che questo dio antico fu imprigionato proprio nel luogo in cui questa cittadella è stata costruita. Edgar quindi preparerà tutti i nuovi uomini che ha creato nel corso degli anni per il combattimento, per la possibile venuta appunto di Kton. Questi nuovi uomini creeranno di fatto un ordine cavalleresco e nomineranno per la prima volta Edgar, Lord Alto Evoluzionario, da cui nasce il suo nome. Comunque Kton riesce anche a uscire a un certo punto perché il barone Russov tenterà di utilizzare il Darkhold, questo libro maledetto che conosciamo anche grazie all'MCU, per culare la sua licantropia. Ovviamente non ci riuscirà, ma nel momento in cui Kton verrà rimprigionato dopo un combattimento incredibile, sarà anche il momento in cui una ragazza partorirà all'interno della cittadella. I due bambini che vengono partoriti proprio quel giorno lì e proprio quella notte sono i gemelli Maximoff, ovvero Quicksilver e Scarlet Witch. Quindi teoricamente i poteri di Scarlet Witch sono strettamente collegati a questo di Okton. Questa è una cosa che tutti i fan della Marvel, almeno per quanto riguarda i fumetti, sanno. Ok? Poi ovviamente nell'MCU le origini di questo personaggio sono completamente diverse, ma secondo me, essendo che è stata introdotta la magia del caos, avremo un approfondimento di futuro su questo dio del caos. L'alto evoluzionario comunque continua la sua carriera e si rende conto sempre di più che la Terra non è il luogo adatto per le sue nuove creature. E si rende conto anche che vorrebbe allargarsi un po' di più, cosa che non può fare nella Terra. Quindi decide di trasformare la cittadella in una nave spaziale e inizia a girare per le stelle. Fino ad arrivare in un pianeta che chiamò Wundagore II. Tra l'altro qui inizia la nuova era dell'alto evoluzionario. Come avete visto fino a questo momento sembra essere un personaggio molto legato alla Terra. Da qui in poi diventa un personaggio un po' più collegato con la galassia. Tra l'altro questo personaggio a un certo punto si allea anche con Hulk perché su Wundagore II nascerà una specie di rivolta guidata dai nuovi uomini, quindi le sue creazioni. L'alto evoluzionario stesso infatti dovrà evolversi fino a diventare una specie di essere semidivino che è quello che conosciamo tutti in questo momento. Comunque la rivolta viene sedata e l'alto evoluzionario inizia a lavorare al suo progetto più ambizioso. Difatti inizia a creare una nuova Terra, chiamata Controterra. Era un pianeta molto molto simile al nostro che l'alto evoluzionario aveva pensato per le sue nuove creazioni, proprio per farle vivere lì. Questa Controterra apre anche un nuovo capitolo nella storia di questo personaggio perché questo pianeta a un certo punto della sua storia verrà letteralmente rubato dagli Arcani. Gli Arcani sono una razza, diciamo così, del mondo della Marvel, creata direttamente dai Celestiali. Una razza talmente avanzata che abita al di fuori del multiverso. Una razza molto importante perché, diciamo, inizia quello che è il casino di Secret Wars. Comunque l'evoluzionario insieme a un team composto da altri eroi come per esempio La Cosa andrà da questi Arcani per riprendersi il suo lavoro, giustamente. Ma arrivato lì l'alto evoluzionario si rende conto di quanto lui sia insignificante di fronte a questi esseri che addirittura, nonostante abbiano preso questa Controterra come un loro pezzo di collezione, la giudicano come semplicemente un interessante ma primitivo lavoro di un provincialotto talentuoso. C'è una cosa insignificante per loro e questa cosa qui inizia a far impazzire questo personaggio che pensava di aver raggiunto il massimo in termini evolutivi e si rende conto di essere ancora ancora in alto mare. L'alto evoluzionario diventa instabile e maniacale e tenta tantissime volte di suicidarsi solo che questo personaggio, come potete immaginare, ha tantissime tecnologie che lo circondano in particolare un'armatura che ovviamente impedisce la sua morte ogni volta che ci prova. Alla fine questo personaggio effettivamente muore. Muore perché va a provocare direttamente l'incredibile Hulk che effettivamente lo devasta, ok? Però in realtà l'alto evoluzionario non è che muore, semplicemente si trasforma in una serie di organismi monocellulari e in seguito l'armatura comunque fa tornare questi organismi nella loro forma originale e l'alto evoluzionario di fatto rinasce e una volta che rinasce decide di cambiare approccio. Difatti non vuole essere più un protettore benevolo ma distaccato, come è stato con i nuovi uomini. La nuova missione dell'alto evoluzionario sarebbe stata quella di modificare direttamente l'umanità così che la razza umana avrebbe potuto essere potente quanto gli arcani in futuro. Questa è la sua nuova missione. Questa cosa dà vita a una saga chiamata Evolutionary War in cui l'evoluzionario crea una bomba dell'evoluzione, bomba che secondo lui avrebbe evoluto l'intera razza umana. Vengono comunque fermati da gli Avengers, però l'alto evoluzionario insieme a un altro personaggio che si chiama Ercole, che è l'Ercole di che tutti conoscete, vengono esposti alla Camera della Genesi, un macchinario creato dallo stesso evoluzionario e questi due si evolvono talmente tanto da diventare addirittura superiori, superiori tra virgolette agli dei, uscendo addirittura dal piano dell'esistenza. Comunque le due essenze evolute, sia dell'evoluzionario che di Ercole, vengono poi raccolte dai celestiali, vengono imprigionate e manipolate per scopi sconosciuti in una parte della galassia che si chiama Galassia Oscura. Alla fine comunque entrambi ebbero nuovamente le loro forme originali e l'evoluzionario ritornò nello spazio insieme ai suoi nuovi uomini. Qua l'alto evoluzionario cambia nuovamente idea, dice, ok, non è cosa evolvere l'umanità, perfetto. Il suo nuovo obiettivo sarebbe stato quello di creare degli nuovi dei e dei nuovi immortali. Tutto questo utilizzando la materia di cui era composta la galassia oscura. Questo personaggio comunque inizia a studiare tantissimo i celestiali e molto collegato a loro, quindi chissà, magari anche in Guardiani della Galassia abbiamo visto qualcosa del genere e in più inizia a teorizzare una cosa molto molto interessante. Difatti studia moltissimo il pianeta vivente Ego e teorizza che in realtà, secondo lui, esiste più di un Ego. Difatti è una convinzione abbastanza supportata dallo strano comportamento del pianeta vivente attraverso gli anni. Tra l'altro, chi legge i fumetti lo sa, ci sono diverse storie sull'origine di Ego. Quindi, secondo lui, tutti questi pianeti viventi che potrebbero esistere nello spazio sono stati generati in passato da un progenitore che lui chiama Super Ego. Ultimamente però questo personaggio ha avuto un drastico cambio, eh, dobbiamo anche dire questo, perché nella serie Quicksilver viene rivelato che il codice genetico dell'alto evoluzionario era diventato instabile, cosa che in realtà potevamo tutti intuire. Tutto questo ovviamente per colpa della sua mania verso l'evoluzione e della sua aggressività. Comunque, l'evoluzionario diventa sempre più potente e maniacale, ma fu proprio Quicksilver a fermarlo. Comunque, con l'aiuto anche di altri eroi, e anche degli stessi nuovi uomini che aveva creato, l'evoluzionario fu capace di curarsi e ritorna di fatto in uno stato mentale molto stabile utilizzando un altro tipo di isotopo, che è l'isotopo G. A partire da questo incontro in poi, l'evoluzionario, appunto, torna sano di mente e diventa praticamente un alleato di moltissimi eroi. Difatti è un alleato occasionale di Thor, è un alleato occasionale degli X-Men, ha avuto a che fare addirittura con Spider-Man, comunque è un personaggio quasi anti-eroe, quasi neutro in questo momento. Anche se ovviamente la sua storia più famosa è Evolutionary War, che è una storia proprio dedicata a lui, lo vede come villain, quindi rimarrà nella memoria di tutti come un villain. L'altro evoluzionario comunque sarà sempre considerato come il genetista più importante all'interno dell'universo Marvel. I suoi poteri sono tantissimi, sono dei poteri quasi divini, tutti ovviamente derivati dagli innumerevoli esperimenti che ha fatto sul proprio codice genetico, difatti ha un cervello altamente evoluto, ha un esoscheletro cibernetico, ha l'abilità di evolvere a proprio piacimento le varie forme di vita, di manipolare e di creare la materia e l'energia, può utilizzare la telepatia, la telecinesi, può viaggiare extradimensionalmente, può alterare la propria statura, può fare qualsiasi cosa. In più, come abbiamo visto, anche prima di incontrare i Celestiali, la sua armatura, il suo esoscheletro era talmente avanzato e talmente potente da non permettere a questo personaggio di suicidarsi e di morire, di fatto, quindi un personaggio pressoché immortale. No ragazzi? Allora, io direi di concludere questo video, intanto vi ringrazio per aver visto anche questo video, vi lascio commentare, questo personaggio, così come l'avete conosciuto in questo video, è simile a quello che abbiamo visto nel film, chi lo sa. Concludo questo video ricordandovi come sempre che questo canale è sostenuto dal nostro store, trovate tutto sul link redocnerd.com, il link lo trovate in descrizione e nel primo commento e vi ricordo che avete il codice sconto YouTube per ogni vostro acquisto. Codice sconto che si rinnova ogni mese, quindi ragazzi, mi raccomando, utilizzatelo. Detto questo ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio tantissimo per aver visto un altro dei nostri contenuti, mi raccomando, iscrivetevi, mettetevi in piace, fate quello che dovete fare. Noi ci vediamo prestissimo con altri contenuti a tema Marvel, mi raccomando, fatevi bravi, ciao a tutti.